Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza stampa, mi chiamo Giulio Marcon, sono deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, alla mia sinistra Giorgio Airaudo, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, alla mia destra c'è Stefano Fassina, deputato del Partito Democratico, poi c'è ancora alla destra di Stefano Fassina Thomas Fazzi che ha realizzato l'intervista dalla quale prende spunto questa conferenza. La conferenza stampa in occasione appunto dell'intervista a Martin Schulz, candidato alla presenza della Commissione Europea, intervista che sarà pubblicata, uscirà domani sul manifesto, in particolare su un supplemento del manifesto che si chiama Sbilanciamo l'Europa, Sbilanciamo l'Europa è un supplemento che esce ogni venerdì sul manifesto, che si occupa per appunto di temi legati alle vicende europee, anche in previsione della prossima consultazione elettorale che ci sarà, come sapete tutti, il 25 maggio. Occasione di riflessione sui temi europei, sui temi che riguardano le critiche e anche le alternative alle politiche di austerità realizzate in questi anni, promosse in questi anni dall'establishment, dalla Commissione, dalla Commissione Europea che conosciamo tutti e tra l'altro vorrei sottolineare che sulla base anche di questa esperienza della campagna Sbilanciamoci, il prossimo 19 marzo ci sarà un evento a Bruxelles, Another Road for Europe, una giornata di riflessione, di incontro con molti esponenti, chi saremo noi? Insomma, noi siamo alcuni dei vari partecipanti a questo incontro, ma ci saranno parlamentari di Siriza, del GUE, dei Verdi, del Partito del Socialismo Europeo e altri ancora, soprattutto anche reti, campagne europee che si sono impegnate in questi anni per costruire delle proposte alternative appunto alle politiche di austerità. Quindi è un evento importante che vorrei ricordare, troverete credo il programma di questo evento in distribuzione qui nella sala stampa. L'occasione, come ricordavo, è quella dell'intervista a Martin Schulz che appunto sarà pubblica da domani, adesso darò subito la parola a Thomas Fazzi che ci racconterà, lui ha fatto l'intervista, i contenuti e il senso delle considerazioni che Schulz fa, anche l'intervista è in distribuzione, vorrei semplicemente ricordare che questa intervista a Schulz ci dà il pretesto, questo dire, di riflettere ovviamente sui temi europei, sui temi, le politiche di austerità, della necessità di una svolta, come molti di noi dicono, una svolta, un cambio di paradigma rispetto alle politiche seguite in questi anni. La stessa intervista a Schulz, appunto, con un po' di equilibrismo, come ricorda anche Thomas Fazzi nella sua intervista, è un equilibrismo tra la difesa del fiscal compact e la necessità di superare le politiche di austerità, tra la difesa delle politiche che sono necessarie per mantenere sul controllo il debito, ma nel stesso tempo la necessità, diciamo, di superare quello che lui dice, appunto, il neoliberismo e le politiche liberiste seguite in questi anni. Questa è un po' anche l'incertezza di una parte, diciamo, della sinistra europea, stretta tra, appunto, l'appiattimento su politiche, che sono quelle che abbiamo visto e che sono state spesso realizzate in grandi coalizioni, quindi c'è anche da capire come le larghe intede, così usiamo un'espressione di casa nostra, siano compatibili con politiche diverse da quelle seguite in questi anni e poi ci sono ovviamente delle novità che vorrei ricordare, tra cui, appunto, la presentazione in Italia di una lista di sostegno a Tsipras, l'altra Europa, che ovviamente può dare un contributo anche al Partito del Socialismo Europeo, anche a chi, diciamo, nell'ambito di questa composita, diciamo, articolazione, di questo composito insieme di, appunto, partiti democratici e socialisti europei pensa che bisogna cambiare strada, non stesso fassina. Un'intervista al Manifesto di qualche tempo fa ha ricordato come sia necessario interloquire con l'esperienza e con i contenuti di questa lista e sia necessario, in qualche modo, aprire un terreno di confronto che ha l'obiettivo quello di superare, appunto, le politiche di austerità e di cambiare strada. Ci sono alcuni temi che l'intervista, e chiudo su questo, diciamo, ci consegna e che riguardano, insomma, aspetti che sono ben presenti nel dibattito politico di casa nostra. La spesa pubblica è troppo alta e troppo bassa, qui, insomma, con Fassina, con Eirato, con altri colleghi, ne abbiamo parlato spesso, noi abbiamo una spesa pubblica non troppo alta, diciamo, rispetto a quella di altri paesi europei e molto bassa in alcuni comparti decisivi dell'intervento pubblico del nostro paese, penso alla scuola, penso a tanti aspetti che guardano, come so dire, dai quali dipende, appunto, la coesione sociale, il benessere, la qualità dello sviluppo di questo paese. La crisi è un problema di debito pubblico, forse no, questa è una crisi che nasce, diciamo, dal debito, dalle operazioni spericolate, diciamo, e dal fallimento dei mercati finanziari privati, forse c'è stata una grande operazione di marketing, diciamo, che ci ha portato, diciamo, a discutere solo di debito pubblico, mentre sappiamo che i disequilibri e le contraddizioni sono di altra natura. Quindi serve un'inversione di rotta, bilanciamoci, fa delle proposte molto chiare, molto precise, sul ruolo della Banca Centrale Europea, sugli investimenti pubblici, sull'uso del bilancio dell'Unione Europea come strumento di garanzia dei debiti sovrani dei vari paesi, proposte che, diciamo, consegniamo a noi stessi, in questo caso anche a Stefano Fassina che è qui con noi. Tra poco dovrebbe arrivare anche Pia Locatelli che è presidente onorario dell'Internazionale delle Donne Socialiste, non so se la definizione è giusta, ma credo di sì. Detto questo, io darei la parola, i tempi sono quelli delle conferenze stampa, 5 minuti a Thomas Fazzi che ci racconta l'intervista, poi a Eralto e Fassina. Sì, grazie Giulio. Ma, sì, diciamo, incontrando Schulz e parlando con Schulz, quello che colpisce è la radicalità in attesa della visione di Schulz, almeno, insomma, per quanto attiene alla visione generale della sua politica e la distanza crescente che c'è tra, diciamo, la componente maggioritaria del PD e invece, diciamo, altri partiti socialdemocratici europei a partire dall'Espede su alcune questioni cruciali. Insomma, Schulz è uno che, visto il suo ruolo istituzionale, non la manda a dire. Cioè, lui dice chiaramente, da Presidente del Parlamento europeo, che se l'Europa fosse uno Stato nazionale sarebbe la prima a non soddisfare i criteri di ammissione dell'Unione, perché in molti settori non è abbastanza democratica. Quindi, insomma, critica molto duramente il deficit democrato che esiste in Europa. È abbastanza critico sull'austerità, come diceva Giulio, pur con delle contraddizioni che poi andremo a vedere. È interessante notare che Louis Schulz, nell'intervista e nel libro, spara a zero sul neoliberismo. Cioè, lui la considera una delle cause principali dell'attuale crisi in corso e lo dice, diciamo, senza mezzi termini. Critica soprattutto il, diciamo, puntato contro la Commissione e dice quelli che accusano la Commissione di essere, diciamo, un manipolo di neoliberisti selvaggi in preda a un delirio di deregulation, hanno ragione. Cioè, è veramente così. Non tutti, ma la maggior parte, con delle persone che contano all'interno della Commissione, sono dei fanatici neoliberisti. E questo lo dice Schulz. Soprattutto considera veramente tragico il fatto che proprio i partiti socialdemocratici si sono fatti ammaliare dal neoliberismo. E punta il dito soprattutto contro il New Labour di Tony Blair, che appunto ha liberalizzato il mercato del lavoro, deregolamentato la finanza. Quindi, diciamo, quello che hanno fatti i partiti socialdemocratici negli anni 90 è una delle cause principali del problema che stiamo vivendo. La cosa interessante è che lui, anche sulle proposte, risulta abbastanza radicale. Cioè, lui dice, addirittura dice, nella crisi vediamo la prima reale opportunità di fare piazza pulita del neoliberismo. Critica duramente l'idea che la soluzione per i problemi dell'Europa sia un'armonizzazione verso il basso, diciamo. E invece dice, bisogna ribaltare il paradigma e non solo difendere, ma migliorare il modello sociale europeo. E fa delle proposte che sono, insomma, buona parte condivisibili. Ovviamente la democratizzazione del processo decisionale europeo permettendo al Parlamento di proporre leggi autonomamente, messa in comune del debito per mezzo degli euro bond, misure molto radicali per ridimensionare e controllare la finanza, quindi limitazione dei derivati, regolamentazione delle agenzie di rating, tasse sulle transazioni finanziarie e anche la separazione tra le banche di investimento e le banche commerciali, che è una cosa che non si sente sempre, diciamo, a livelli istituzionali così alti. Quindi, insomma, come dire, una visione sicuramente più radicale di quella che ci si aspetterebbe. ovviamente ci sono anche delle contraddizioni. Non sorvola completamente sulla questione tedesca, diciamo, sulla necessità della Germania di ridurre il suo surplus commerciale e anzi, a chi gli chiede una domanda su questo tema dice, insomma, non è rendendo più debole la Germania che si rende più forte l'Italia, insomma, ti risponde così per dire, quindi non è quello il problema. Quindi è chiaro che qua c'è un elemento un po' contraddittorio. Come dicevo, critica l'austerità, ma spesso invece, sia nel libro che nell'intervista, loda il consolidamento fiscale fatto da molti governi europei dall'inizio della crisi in poi, che, insomma, ovviamente è ovvio che sono la stessa cosa, austerità e consolidamento fiscale, quindi è curioso che Schulz, insomma, come critica una ma difenda l'altra e, per esempio, difende in maniera molto accesa l'operato di Monti e di Letta in Italia, insomma, per cui ha solo cose molto buone da dire, dicendo che Letta ha fatto una altissima cosa portando l'Italia fuori dalla procedura di deficit eccessivo e, insomma, sul fiscal compact è, diciamo, è tendenzialmente a favore, la considera una cosa buona, nel libro ne parla come un passo molto importante nella stabilizzazione, diciamo, della crisi europea e che è una cosa su cui ovviamente, sbilanciamoli, non è d'accordo. Detto questo, dice, insomma, se però dovesse essere una maglia proprio troppo stretta che non permette minimamente neanche un po' di crescita, allora si potrebbe pensare di rivederlo un po'. Quindi comunque un minimo di apertura sull'eventuale revisione del fiscal compact c'è e poi, insomma, come dico anche nell'intervista, ci sono spesso, come dire, l'Europa ideale di personaggi come Schulz e altri e poi le scelte reali che vengono fatte sul campo sono in contraddizione. Schulz parla nel libro della necessità di controllare i paradisi fiscali, regolamentare i paradisi fiscali, però a dicembre c'è stato un voto al Parlamento europeo, una mozione di legge proposta dal GUE sul controllo dei paradisi fiscali contro il quale il Parlamento in toto ha votato negativamente, l'hanno bocciato tutti, incluso il partito di Schulz in toto. Quindi mi sarebbe piaciuto fargli una domanda su questa cosa, ma non ho avuto il tempo di farli, sarebbe stato interessante sentire la sua risposta. Quindi in conclusione, che dire, insomma, Schulz è Presidente della Commissione, soprattutto se sostenuto da Tsipras, come Tsipras ha detto che ha intenzione di fare, se non dovesse vincere, rappresenterebbe un passo avanti rispetto alle politiche attuali, quasi sicuramente, però, insomma, sicuramente la necessità di una spinta dal basso rimane, perché appunto sul campo finora Schulz e in generale il partito della socialdemocrazia, insomma, il gruppo socialdemocratico europeo ha ancora molto da dimostrare, insomma. Grazie Thomas, adesso la parola a D'Orgeraldo. Molto velocemente, io partirei proprio dalla parte finale della tua intervista, cioè se Tsipras non dovesse vincere sosterrebbe Schulz. Non è una cosa così irrilevante, credo, anche perché penso che il tema sia se la sinistra vince in Europa. E in Europa la sinistra è il PSE e la coalizione che si sta aggregando intorno a Tsipras e sono i Verdi, perché penso che se noi vogliamo agire sulle parti che possiamo considerare autocritiche che nella tua intervista valorizzi, noi abbiamo bisogno che non si ridetermini in Europa la grande coalizione. Cioè la prosecuzione delle politiche di austerità, delle politiche neoliberiste che, anche secondo Schulz, della risposta che dà la tua intervista, stanno all'interno della commissione, può essere prolungata solo da un'estensione della grande coalizione tedesca o delle piccole e grandi coalizioni più opportuniste italiane, può essere prorogata solo da una riconferma. Io credo che tutto vada fatto e penso che da questo punto di vista il contributo che anche dall'Italia possiamo dare in queste ore, sperando che si concluda rapidamente la definizione della lista Tsipras, almeno per la parte italiana, è quella di farsi e di contribuire affinché la sinistra vinca in Europa e dentro la sinistra si apre un dibattito. Da questo punto di vista io trovo interessante ciò che ha detto il fassina politico più che il fassina uomo di governo recentemente nelle discussioni che abbiamo anche avuto e abbiamo fatto anche pubblicamente, perché penso che il tema di come dentro anche il PSE, dentro i partiti socialisti, socialdemocratici, riprende una discussione autonoma rispetto alle culture né liberiste sia il tema, sia la priorità e questo vuol dire rimettere al centro dell'Europa per esempio il tema del lavoro e di come il lavoro ritorna non solo a ricostruire i diritti, a ricostruire un valore, a ricomprendere la cittadinanza, ma anche di come e quale è l'intervento pubblico in economia, non solo legato al lavoro, ma qual è l'intervento pubblico. Mi sembra che questi due temi siano due temi centrali insieme a un tema su cui evidentemente resta un dissenso io credo abbastanza radicale per quel che mi riguarda rispetto al fiscal compact per farla breve, quando io penso che invece da questo punto di vista ciò di cui è portatore Zipras e la coalizione che si sta costruendo anche nel versante italiano, cioè la cancellazione e la rinegoziazione di quel debito come condizione per liberare politiche e per cambiare concretamente e quindi per riprendere anche come si dice un percorso di sinistra in Europa, avendo per fortuna oggi da sinistra qualche governo in più, sia un tema centrale che ha cittadinanza in questo dibattito. Però è evidente che il voto alle europee deciderà non solo di quale sarà il Presidente della Commissione europea e delle sue coalizioni, ma temo che deciderà anche se a sinistra dal PSE a ciò che sta fuori dal PSE sarà primavera o si redeterminerà un autunno. Questo secondo me è un esito che è nelle mani del voto dei cittadini europei e delle battaglie. Da questo punto di vista io penso che le forze che si stanno organizzando e che guardano al PSE e a chi nel PSE vuole riaprire un dibattito, una discussione che per troppo tempo è stata delegata e sacrificata al neoliberismo, questo si giochi anche sui rapporti di forza e sulla capacità di incalzare questa discussione. Per cui penso che questa intervista e l'inserto di Sbilanciamoci per l'Europa che il manifesto ospita, sia un luogo in cui questa discussione non solo la apriamo ma dobbiamo alimentarla e anche renderla ficcante, polemica per capirci e portarla sul terreno delle proposte. Grazie. Grazie. Stefano Cassino. Innanzitutto ringrazio Giulio e Giorgio per l'invito, per questa iniziativa, per la discussione che Sbilanciamoci porta avanti il manifesto su questi temi che indubbiamente non hanno lo spazio nel dibattito pubblico che dovrebbero avere, quindi è un'occasione preziosa. Torno sul punto che Thomas Fazzi ricordava all'inizio e cioè le contraddizioni nell'intervista di Schultz. Confesso contraddizioni che ho sentito anche addosso a me, perché indubbiamente Schultz non è affetto dalla subalternità culturale che ha segnato nel ventennio alle nostre spalle tante parti dei socialisti europei e per quanto riguarda l'Italia, oltre che il Partito Democratico, i partiti da cui è sorto. E tuttavia è evidente che poi si scontra con dei rapporti di forza che lo inducono a stare su delle posizioni in qualche modo antitetiche, con il paradigma che pure riconosce. Io considero l'intervista e il libro di Schultz un passaggio, può segnare una svolta, un passaggio di fase almeno sul piano culturale, perché non ho memoria, può darsi che mi sia sfuggito qualcosa, ma non ho memoria di un'affermazione così netta sulla subalternità culturale dei partiti socialisti europei, fatta da un esponente che ha il rilievo che ha Schultz. E questo a mio avviso è tardivo, mi rendo conto è tardivo, però è un fatto politicamente rilevante sul quale costruire, sul quale probabilmente quell'obiettivo che mi pare condividiamo tutti intorno a questo tavolo, di trovare convergenza sulle politiche, nonostante partiti in competizione nella fase elettorale, trovo un elemento vero, un elemento di sostanza. Quindi credo che dovremo lavorare su questa rotta, come sapete sabato c'è il congresso del PSE a Roma, il Partito Democratico oggi nella direzione nazionale sancisce finalmente l'ingresso formale nella famiglia dei socialisti democratici europei e questo può aiutare anche a spostare l'asse culturale e politico dei socialdemocratici, perché qua la scommessa, tutti dobbiamo scommettere su questo, se le socialdemocrazie rimangono sull'asse dell'ultimo ventennio, noi non ce la facciamo, qualunque sia l'esito della lista Zivras, dobbiamo con strumenti diversi, chi gioca appunto su una lista che è in competizione elettorale, chi fa una battaglia politica e culturale all'interno, però credo che condividiamo questa consapevolezza, che se non si sposta l'asse delle socialdemocrazie noi riusciamo a raggiungere gli obiettivi e Schulz è il punto più avanzato, certamente in Germania, di leadership consapevole della necessità di una svolta, una svolta che guardate, a mio avviso lo sottolineiamo poco, è necessaria anche al fine di raggiungere l'obiettivo che le politiche liberiste intendono raggiungere, cioè la riduzione del debito. Ieri nel winter forecast della commissione è descritto in modo chiaro, il debito medio nell'eurozona è passato dal 65 al 95% nel 2013, nel 2004 ci continuerà a crescere, cioè ora non facciamo più una discussione ideologica se è meglio una cosa o l'altra o se vi sono strade meno cruente sul piano economico e sociale, quella rotta là è insostenibile, è un fatto, non è più un'opinione sulla quale dividersi, è insostenibile anche ai fini della riduzione del debito pubblico, solo la cecità ideologica di Rennes può premettere al documento di previsione che ieri ha pubblicato la commissione l'affermazione stay the course of the economic reforms, perché è davvero imbarazzante, di quali migliorimento parliamo? In Grecia si sta discutendo oggi del terzo bailout perché il secondo non è sufficiente. Ecco, chiudo, ci sono condizioni oramai oggettive, evidenti, anche a chi ha meno sensibilità sul piano sociale e economico per imporre una correzione di rotta, di una rotta che è insostenibile. A me pare che vada sottolineato un punto a proposito della democrazia che è l'altro passaggio importante. Questa volta, per la prima volta nella storia, i partiti che si presentano alle elezioni indicano il presidente della commissione. Guardate, sul piano culturale è un cambiamento radicale perché la commissione in questi decenni ci è stata proposta e rappresentata come un organismo tecnico che propone misure oggettive, mentre così si straccia il velo della tecnicità e viene fuori quello che la commissione è, e cioè è un soggetto politico che quando fa raccomandazioni ha dietro un paradigma culturale e politico con implicazioni diciamo economiche, sociali, distributive che hanno un segno e non sono neutre. Ecco, oggi si politicizza in modo esplicito la commissione e questo è un passo avanti fondamentale perché è chiaro a tutti la differenza in campo tra conservatori, socialisti, lista Zipra, ci sono differenze enormi e se noi riusciamo a trasmettere questo messaggio che oggi c'è un'alternativa vera in campo, che poi non ci può piacere in tutte le sue articolazioni, ma c'è un'alternativa vera. Io credo che noi riusciamo anche a mobilitare un interesse all'Europa che se rimane così scarso o così poco informato rischia di dare fiato a chi vuole distruggere, mentre questo è il punto che mi convince e mi fa dire che è possibile collaborare con la lista Zipra, mentre noi riteniamo che la strada sia più Europa, un'Europa altra, ma più Europa, non una regressione perché la regressione sarebbe una drammatica sconfitta storica per tutti. Quindi grazie ancora a Thomas che ha fatto l'intervista e sbilanciamoci al manifesto perché ci consentono di fare un bel tratto di strada. Grazie, adesso la parola a Piero Caselli, poi ovviamente domande e commenti ai giornalisti. Sorrido perché noi stiamo parlando, qualcuno ha parlato, il titolo dell'intervista è Schulz l'equilibrista e poi però l'inserto va su sbilanciamo l'Europa. Siccome io credo che Schulz sia abbastanza sbilanciato rispetto alla media europea e rispetto anche ai leaders europei, credo che trovi la giusta colloquazione dentro questa testata. Guardate, conosco Schulz da tanti anni, lo conosco bene, lo conosco dal punto di vista politico, lo conosco dal punto di vista umano, lo conosco come comunicatore e lo conosco come uomo istituzionale. Se voi seguirete Martin Schulz in campagna elettorale scoprirete il vero Schulz perché finalmente si libera dal dovere istituzionale di fare il presidente del Parlamento e viene fuori, dal mio punto di vista, la sua vera anima socialdemocrata. E questo è il valore di Schulz come candidato alla presidenza della Commissione europea. Valore di Schulz in quanto io sono una socialdemocratica, sono iscritta al Partito Socialista esattamente da 40 anni, sono stata tra i fondatori e le fondatrici del Partito del Socialismo europeo. E mi dispiace un poco che ci sarà un concorrente a sinistra di Tsipras perché noi partiamo da una situazione oggettivamente difficile perché possiamo avere tutte le nostre idee, tutte le nostre speranze, tutti i nostri sogni, il sogno europeo, ma la realtà di fatto adesso ed è una realtà migliorata rispetto a qualche anno fa è che i 28 sono fatti da 28 paesi che hanno 10 governi di centrodestra, 8 di centrosinistra, 10 paesi con le grandi coalizioni di cui 5 guidati da un leader del centrodestra e 5 guidati da leader di centrosinistra. E siamo in una situazione decisamente migliorata perché prima eravamo a due terzi a un terzo e con questa realtà bisogna fare i conti. Poi possiamo avere tutte le speranze, le ambizioni, gli obiettivi, ma questa è la realtà. E un'altra realtà dalla quale dobbiamo partire e devo tenere qui l'orologio perché quando parto con l'Europa non... Grazie. Un'altra realtà sono gli strumenti che ci limitano e mi riferisco in particolare ai trattati e al Six Compact che trattato non è ma trattato è. E io attribuisco la responsabilità di questo Six Compact che trattato non è ma trattato è, cioè incolante come trattati, nei confronti di quelli che non hanno avuto il coraggio di volere più Europa. Faccio davvero in due minuti una sorta di brevissima storia dalla moneta unica ad oggi. Con Maastricht incominciamo a parlare di moneta unica e si deve fare la moneta unica. Poi naturalmente quando si ha una moneta unica ci vuole un'autorità che gestisce la moneta. Non l'abbiamo voluta e abbiamo deciso raccontandoci bugie. Mi ci metto dentro perché c'erano anche i socialdemocratici in quella decisione. C'è stata una rilutanza, una resistenza, un'opposizione dei diversi paesi a cedere sovranità. Si diceva che ci sarebbero state le politiche di convergenza e abbiamo adottato il metodo di coordinamento aperto, che era un dire speriamo di metterci d'accordo se la va va, se non va, non c'è niente da fare, rispetto ad un impegno più rigoroso che è il metodo comunitario. Quindi noi abbiamo interrotto vent'anni fa quel processo di, come posso dire, quasi costituzionalizzazione del processo europeo quando abbiamo dato più forza al Parlamento europeo, stabiliti alcuni diritti per i cittadini europei. Abbiamo interrotto questo processo di integrazione verticale dell'Europa e abbiamo fatto finta di essere capaci di andare tutti d'accordo e di fare politiche di convergenza. Una grande finzione, qualcuno ci ha creduto, qualcuno ha fatto finta di crederci. Il risultato è stato questo, che quando poi abbiamo incominciato ad usare l'euro, all'inizio i mercati non hanno reagito, lo spread rimaneva costante, ma in questa fase, anziché fare politiche di convergenza, noi abbiamo fatto politiche di divergenza, abbiamo accentuato le diversità negando che ci potessero essere quelli che vengono chiamati shock asimmetrici. Poi è arrivata la crisi, certo le banche e tutto quanto, i mercati hanno incominciato a reagire e noi non avevamo gli strumenti per comporre questa vicenda. E allora utilizzando il metodo di coordinamento aperto, visto che non avevamo la cassetta degli attrezzi per governare questa cosa, con il metodo di coordinamento aperto ci siamo dati dei vincoli che sono ancora più vincolanti di quelli che si ha se noi avessimo fatto una sorta di federazione dei paesi. Ci siamo ritrovati più vincolati, perché appunto dico che il Six Compact è un trattato pur non essendo un trattato, e però non abbiamo nemmeno lo strumento dell'autorità sovrana e sovranazionale che si assume la responsabilità e quindi si è creata una conflittualità tra paesi, per cui per evitare maggiore integrazione noi abbiamo perso su due fronti. Ma questa è la realtà e noi non possiamo non fare i conti con questa realtà, realtà politica e anche realtà tra virgolette istituzionale. Io credo che Schulz possa essere la persona che riesce a, che insomma è il Parlamento europeo da vent'anni e socialdemocratico da quaranta, conosce il mondo e il mondo della politica e le relazioni politiche, lui può essere secondo me la persona che riesce a scardinare un po' questo gioco. Guardate io non ho finito di leggere il libro, che è anche un po' noioso per la verità, perché oggettivamente è anche un po' noioso, però dice delle cose vere. Ma avendo questo rapporto molto di lunga data con Martin Schulz, l'ho invitato a Bergamo a parlare a Bergamo, invitando soprattutto degli studenti. C'era una platia di 500 persone, almeno la metà erano studenti che l'hanno incalzato in mille modi. E lui che è un abilissimo ma anche bravo comunicatore, convincente e non è un bugiardo. Al massimo si trattiene un poco, ma non racconta una cosa per sostenere il contrario. Diceva a questi ragazzi, ma voi volete un'Europa più giusta o un'Europa più competitiva? E questa decisione chi la deve prendere. E parlava di Europa democratica. Oppure diceva, e mi dispiace che non abbiamo ancora stampato gli atti di questo convegno, ma arriveranno tra 20 giorni, perché poi facciamo tutta la... e quindi saranno a disposizione. Mi diceva, devo finire? Ancora due minuti. Allora, lui ha detto, abbiamo tre obiettivi. Certo, la disciplina di bilancio, ma non riusciremo a guadagnare, a fare disciplina di bilancio senza nuova crescita e senza nuova occupazione, soprattutto giovanile. E poi diceva, e poi ci vuole più democrazia, perché se non c'è questo, ed è stato uno di quelli che ha forzato perché si arrivasse al cambiamento con l'indicazione del Presidente che verrà eletto dal Parlamento, a prescindere dalle indicazioni dei singoli Paesi, ma tenendo conto dei risultati elettorali, politicizzando questa elezione. E siamo riusciti, noi siamo stati il primo Paese, l'Italia, a dire quando si va alle elezioni europee, le abbiamo resi un poco più europee dicendo sulla scheda elettorale mettiamo l'affiliazione europea, perché finalmente queste elezioni che sono europee diventano europee, non stiamo qui a parlare di cose nostre, dimenticando l'Europa. E poi ha parlato di circolo virtuoso e dice se vogliamo avere la disciplina di bilancio ci vuole il circolo virtuoso, più investimenti, più occupazione, più consumi e messo in evidenza sempre in quella conferenza la, come posso dire, la negatività del circolo vizioso che è quello che ci ha portato a queste condizioni. Io credo che lui sia il candidato giusto per, tenendo conto del momento politico e anche dei vincoli istituzionali che abbiamo per scardinare un poco le cose. E capisco bene la presenza di Tsipras, ma credo che possa indebolire, perché la capacità di Schulz di convincere quelli che non sanno molto di politica. E una presenza forte, una candidatura forte, più largamente appoggiata, avrebbe in qualche modo contribuito ad ulteriormente allargare il consenso nei confronti di Martin Schulz. E il consenso nei confronti di Martin Schulz significa sbilanciare il futuro Parlamento europeo verso sinistra e forse questo ci aiuterà a rimettere in discussione il six compact e non solo, però per farlo abbiamo bisogno di una forza politica che deve essere più robusta di quanto non si ha in questo momento. Grazie, adesso commenti e domande. Io spero che Tsipras abbia un buon risultato, perché questo aiuterà forse anche i socialisti europei a non fare più, magari, molte larghe intese che purtroppo sono state subalterne, subalterne, diciamo, a queste politiche, come dice anche Schulz, tra l'altro. Però ecco, mandi commenti di giornalisti che sono diversi, vediamo un po' chi vuole parlare, sia Bagozzi, Europa. Io non conosco di tutti i nomi che... Vorrei chiedere all'onorevole Fassina. Lui ha detto cose rispetto al PSE e a Schulz, interessanti. Oggi il PD decide di entrare fondamentalmente nel Parlamento europeo, nel PSE. Conosciamo il dibattito interno al PD sul tema. La domanda è se il PD che entra nel PSE sarà in grado o vorrà sostenere questa neoradicalità di Martin Schulz a partire diciamo dalla linea in post al suo segretario oggi Premier che sull'Europa fino a oggi ci ha detto che vuole puntare i piedi, fondamentalmente non farsi dettare la linea, ma al contrario, ma ci ha detto poco di più. Ma innanzitutto io non chiamerei neoradicalità quella di Schulz, io la chiamerei un benvenuto realismo. Guardate, il Financial Times sono anni che dice che la rotta è insostenibile. noi siamo vittime davvero di conformismo e subalternità culturale. Sono ricette necessarie. Obama non è radicale, ha fatto un po' di politica chenestiana, sia con politica monetaria che con la politica di bilancio. Davvero è solo la nostra ostinazione. Non c'è radicalità in quelle proposte. Stiamo parlando di misure standard per riuscire a mettere in equilibrio la situazione. Di fronte a una realtà che ci dice che quelle ricette non funzionano, non so che cosa deve accadere di più per convincerci che quelle ricette non funzionano. La linea di andare avanti con più determinazione mi sembra davvero folle. Io richiamo spesso il titolo di un bel libro di Vladimir Giacchè che è Titanic Europa. Ma è così. Siamo sul Titanic e continuiamo a far finta che invece la rotta è giusta. Appunto, come dice Renne, bisogna solo aspettare un po' di tempo e si vede la luce in fondo al turno. Sono passi sei anni. Se dopo una caduta di dieci punti del PIL hai una crescita dello 0,6 come ci ha detto ieri la Commissione Europea, ma può essere considerato un risultato soddisfacente col debito pubblico che è passato dal 103 al 137 e continua a crescere? Cioè veramente io qua invito a guardare i dati. Non è radicalità, è senso della realtà. Dopodiché io credo che proprio perché non è radicalità, è senso della realtà, mi aspetto dal neo premier segretario del Partito Democratico, il mio partito, che vi siano passi conseguenti all'affermazione che ha fatto anche nella replica del dibattito di martedì alla Camera quando ha ottenuto la fiducia. Cioè mi aspetto che per essere molto concreti il documento di economia e finanza che tra qualche settimana deve essere inviato al Parlamento abbia una revisione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2014 che comunque non raggiungiamo, obiettivi di deficit e di debito. E non è come dire una visione pessimistica, anche qua l'ha indicato la Commissione Europea ma aspetto quindi una revisione di quegli obiettivi, ma aspetto che l'allentamento degli obiettivi recuperi risorse per il finanziamento di programmi di investimento perché la priorità è la domanda, dobbiamo sostenere la domanda altrimenti crescita non c'è e gli obiettivi si allontanano. Quindi mi pare che su questo terreno, per fare un passaggio politico e chiudo, si misura la discontinuità che governi precedenti. Su questo terreno, altrimenti non c'è discontinuità. Se dal DEF non arrivano scelte chiare, vuol dire che permare una continuità che farà innanzitutto male al Paese perché possiamo fare tutti gli interventi sul mercato del lavoro che vogliamo, l'occupazione non riprende se rimane un'economia così anemica. Quindi davvero mi aspetto coerenza in conseguenza dell'affermazione che è stata fatta martedì nella replica e un DEF che manifesti autonomia culturale, realismo, meno ideologia e più realismo. Questa è la vera discontinuità rispetto ai governi precedenti e quindi daremo tutti noi un contributo in questa direzione. Sì, scusi se insisto, onorevole Fassina. È un tavolo di convergenza e cercherò di dare un contributo alla convergenza almeno pari a quello che ha dato Locatelli. Mi sembrava interessante quello che diceva Bagozzi, lei ha detto che bisogna spostare l'asse culturale e politico dei socialdemocratici e che una vittoria di Schulz, che evidentemente voi vi augurate, ma non si augura Marcon che invece tifa per Tsipras, però potrebbe aiutare a spostare queste due vittorie, mettiamola così, queste due vittorie in qualche misura, queste due buone affermazioni potrebbero aiutare a spostare quest'asse almeno culturale. E nel libro di Fazzi, Schulz prende di petto, almeno questo lei ha detto sempre Fassina, almeno dal punto di vista culturale certi miti degli anni 90, il blerismo e il new labor, almeno lei dice, questo mi pare di citarla quasi testualmente, che per lei è una grande svolta questo, per la prima volta in Europa si dice questo apertamente, qui in Italia l'abbiamo detto da poco, ma anche forse con più forza. Allora le chiedo però, l'attuale Presidente del Consiglio con la forza di essere anche un segretario del più grande partito della sinistra italiana, del centro-sinistra italiano, però è abbondantemente ispirato, almeno fino a qui, a proprio a quei miti, diciamo miti new labor, contro i quali oggi Schulz fa un'autocritica. Secondo lei adesso appunto sarà il DF, il momento insomma della verità per carità della presa di coscienza? O potrebbe esserci il paradosso che il Partito Democratico si attesta sulla parte meno progressiva proprio del PS? Innanzitutto vorrei tornare su un punto, poi vengo alla domanda. L'onorevole Locatelli ha fatto un passaggio importante quando ha ricordato la composizione dei governi europei. Credo che la sera del 25 si conteranno innanzitutto i parlamentari del blocco conservatore, i parlamentari del Partito Socialista e Democratico, quindi io ho una visione positiva dell'operazione Tsipras, dopodiché si conteranno questi numeri innanzitutto e chi avrà un deputato in più di questi due blocchi è quello titolato a mettere in campo la candidatura, per realismo tra di noi è così. Questo ha la voce appello al voto utile? No, no, questa è la voce consapevolezza di quello che è. Poi ripeto, l'ho scritto, l'ho detto, considero l'operazione della lista un'operazione positiva perché ci consente di recuperare un'area che credo difficilmente avremmo potuto intercettare. quindi, dopodiché, credo che questa sia anche la fase del pragmatismo, quindi mi aspetto che nonostante il background e le tappe che hanno segnato l'arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Ghigi ci sia realismo e cioè la consapevolezza che siamo in una fase in cui è conclamata la dannosità di ricette che sono andate di moda e che qualcuno pensa siano ancora valide quindi mi aspetto che appunto sul DEF ci siano scelte in controtendenza. Nella replica il Presidente del Consiglio martedì sul lavoro ha indicato che non è più tempo di dare centralità agli interventi dei gius lavoristi e l'ho trovato un passaggio importante. Quindi mi pare che ci siano dei segnali che promettono bene. Ovviamente poi il Parlamento rimane in funzione quindi ci sarà la possibilità di ravolare su una risoluzione sul documento di economia e finanza, ci sarà possibilità di emendare provvedimenti che arriveranno. Quindi io credo che ci siano le condizioni per registrare una correzione di rotta rispetto a quella che abbiamo avuto in questi anni. Allora abbiamo altri sei minuti, anzi ci sono altre domande se no possiamo chiudere anche prima, ci sono domande, commenti? Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.